Buongiorno cari amici di Visione TV, benvenuti al nostro controcanto. Oggi eccezionalmente in onda alle 14.30, state tranquilli, da domani ritorniamo all'orario classico e consueto, quello delle 11.00. Oggi è martedì 28 marzo e il mondo occidentale, in particolare il popolo italiano, viene a conoscenza di una notizia sconvolgente, non del tutto imprevista, perché noi sapevamo che già Putin era di fatto il nuovo Hitler, che è cattivissimo, che stava malissimo, che è un dittatore, che è un autocrate, che quando si annoia avvelena la gente, però oggi sappiamo una cosa in più, è proprio lui e il diavolo, lo sa Repubblica, ecco lo vedete dalla copertina, è proprio lui, le prove sono inconfutabili, quindi abbiamo titolato il diavolo parla russo, perché sia la Repubblica che il Corriere della Sera, insomma il Corriere in maniera un po' più sopia, Repubblica invece con grande enfasi raccontano al popolo italiano che l'arrivo di questo anticristo è già presente sulla terra, ed è il presidente russo Putin. Vediamo come apre il giornale di Sambuca, anche questo è un po' indemoniato, però meno, un piccolo diavolo come quello di Benigni ne riconosce uno più grande, infatti un odore un po' di zolfo c'è, il direttore è Sambuca Morinari, la piazza ferma Netanyahu, parlano delle oceaniche proteste in Israele contro la riforma della giustizia voluta da Netanyahu, dice in Israele in migliaia cercano la Knesset, il premier annuncia il rinvio della riforma giudiziale, il partito di ultradestra accetta, dice ma vuole una guardia nazionale, dai sindacati stop allo sciopero generale. Questa è la notizia più importante, vedete qua l'audio degli oligarchi contro Putin ha seppellito la Russia. Adesso andiamo alle pagine interne perché vedrete, non vi preoccupate, le persone particolarmente sensibili magari padano da un'altra parte, guardano qualche canale un po' più giocoso, un po' più scherzoso, però invece quelli più forti possono affrontare insieme a noi questa gravissima notizia, anche un po' impressionante. Vedete un po', Rosalba Armonica Stelletti, credibilissima giornalista esperta di mondo russo, ci dice che ci sono degli audio rubati ai magnati russi e chi è Putin? Putin è Satana, proprio è lui, e lui in persona, non è neanche il cugino di Satana, parente di Satana, oppure è posseduto, cioè è entrato un demonio, no, è proprio lui, cioè lui è in persona, lui se gli guardate la carta di identità, c'è scritto Vladimir Putin, ma in realtà lui si dovrebbe presentare proprio come Pepe Satana, cioè proprio Satana, Satana e basta, e ha rovinato il paese. Queste cose le dicono due russi, due magnati, ecco, verrebbe da dire che vi siete magnati, per dire una cosa di genere, ma questi due magnati sono ceni, forse hanno pure conoscenze esoteriche, teologiche, insomma magari fanno riti la sera, evocano spiriti, qualcosa sapranno, se no non l'avrebbero, Repubblica in giornale 6, non è che rilanciava una patacca con questa sicurezza, se è Satana è Satana, sono il produttore Prigozin a dire che Putin è Satana, che non è, però non sembra parente del cosiddetto cuoco di Putin, vale a dire l'altro Prigozin a capo della milizia Wagner, è un tale Hakmedov che al telefono dicono non si salverà, ecco quindi non si salverà questo povero diavolo. Due uomini discutono, dell'offensiva russa contro l'Ucraina, del presidente Vladimir Putin e del suo entourage, ci vanno giù pesante. Uno, il presunto, ma anche questo sanno, produttore musicale, presunto, che vuol dire presunto, o lo fa o non lo fa, non è che è presunto, se lo è, lo è. Yosif Prigozin, nessuna parentela come il più famoso Eugeni, l'uomo dietro i mercenari Wagner e alla fabbrica dei troll, chiama il leader del creminino una nullità e i suoi fedelissimi li chiama canaglie. L'altro è identificato come il magnate a zero ex senatore russo Akhmedov, ecco è lui, diciamo, è la zero, quello che ha più conoscenze in termini spirituali e dice che Putin è Satana e i suoi Lillipuziani li hanno fottuti, hanno fottuto lui, hanno fottuto i loro, hanno fottuto a tutti. Inanellano parolacce ingiurie, per tutta se l'è sentita Rosalba, per 35 minuti ingiuriano questi due semi sconosciuti al telefono Putin, questa telefonata intercettata, chissà da chi, inviata ai giornali ucraini, chissà per quale motivo. Ecco, per poi finire a cascata sui principali giornali italiani che danno retta, a una presunta telefonata intercettata, a due presunti magnati, che siete magnati, uno a zero e uno russo, immagino che presuntivamente parlano male di Putin, lo paragonano al diavolo e tutto questo viene rilanciato in grande stile da giornali che pretendono di essere presi sul se non sarete voi indemoniati, ecco perché non provate voi a chiamare un esorcista. Comunque dicono parolacce, ecco e secondo me Rosalba questa cosa che tu dici li scaggiona perché non può essere che dicono una cosa del genere, perché dicono che ricorre per 35 minuti la parola Bliad che lo traduce Rosalba come porca puttana, allora è Lino Banfi, Rosalba, uno dei due, è Lino Banfi, non è Achmedo, perché porca puttana, io ti spezzo il collo, ti metto le bretelle a tracollo, quella è Lino Banfi che dice così, disgraziati delinquenti, fidati, non è, hai sbagliato, porca puttana, dice porca puttana ben 150, poi le ha contate, le ha contate, ieri non ha dormito, povera donna, perché quante volte lo dice porca puttana, disgraziato delinquente, sempre in mezzo stai, come il giovedì, 157 volte, allora ve lo dico io chi erano, a questo punto tutte le prove indicano che la telefonata non era tra Achmed, Achmed come si chiama quest'altro, Achmed, e l'omonimo di Prigosi, la telefonata era tra Lino Banfi che dice porca puttana, e Desimone, ve lo ricordate quello là, Desimone, quello lì del film Fracchia la bella umana, che dava sempre fastidio al commissario Auricchio, quindi il caso è risolto, l'audio risalirebbe, manco questo sanno, a gennaio, ma è stato diffuso a marzo, ecco come uno spaccato di quello che davvero penserebbero del regime e delle sue mosse in Ucraina, alcuni esponenti dell'elite economica del paese, non solo quelli che hanno lasciato il paese, ma anche quanti dalla Russia non se ne sono andati, e in pubblico continuano a sostenere e glorificare il Cremlino, dice l'autenticità delle voci registrate è tutta da confermare, altri sostengono che la conversazione conterrebbe riferimenti pressoché impossibili da falsificare, l'ex KGB l'ha ritenuta autentica, tanto da avere discusso, quali misure adottare. Lo stesso Prigozin ha ritrattato, tentando una paradossale difesa, dice l'unione di frasi pronunciate e di altri generati con l'intelligenza artificiale mai dette, invece Akhmedov, quello che dice che è Satana Putin, al momento tace, è 1-0, negli anni, no 1-0, non è una partita di gas, è proprio dell'Azerbaijana, quindi non è che vince 1-0, è a 0 lui. Negli anni 90 ha fatto fortuna grazie all'industria del gas in Siberia, dice è stato senatore in Russia dal 2004 al 2009, protagonista a Londra, dice di quello che, di cos'è protagonista a Londra, lo vediamo subito, di quello che è stato battezzato come il divorzio più costoso della storia. Poi è tornata a Baku, non vedrebbe Putin dal 2008, dice ma ha subito le sanzioni, ecco ha una barca, poveraccio, che sta marcendo lì, dice riferendosi al suo yacht e prendendosela con Putin, dice non gliene frega un cazzo del popolo, perché siccome tutti chi è del popolo russo, che non ha uno yacht è a Londra, e quindi questa è la prova, che se non può andare lì e sta marcendo, Putin ce l'ha con il popolo, perché chi è? Perché è Satana, ecco, eccolo qui, è proprio lui. Il presunto Prigozzi, quindi questi qua di Repubblica hanno imbastito un articolo, non sapendo chi parla, non sapendo chi è autentico, non sapendo se è vero, con frasi sconnesse di uno che dice che è Satana Putin e le rilanciano con grande evidenza. E non sarete voi indemoniati. Poi c'è uno sfogo di certo Cemezov, Zolotov, che danno la colpa al ministro della difesa Shoigu, che viene chiamato coglione, ma anche canaglia. Anche l'ipotizzato Akhmedov inveisce contro di loro, cioè hanno sperperato tutto. Putin ha seppellito il popolo russo, vedi che ha fatto, li ha messi gli uni contro gli altri. La zero replica non si salverà, è lui il responsabile di tutti, ne risponderà. Prigozzi ne insiste, si sarebbe dovuto fermare, prendere il Nobel e andare a fancurro. Ma perché? Ma quello l'ha fatto Navale. Gli hanno dato il Nobel e se è andato lui a fancurro. Forse ha invertito i personaggi. Tanto ha già ceduto il paese. Non abbiamo nessuna fottuta opzione. Dici due, sono anche molto eleganti nel parlare. Quanto costa ogni giorno questa guerra? Quanti cazzo di innocenti soffrono? L'è un po' sboccata però la Castelletti. È stato versato così tanto... E qui torna, no? Posseduto non dal demone, ma come minimo dall'anelito di Lino Banfi, perché continua a dire quanto sangue è stato versato, porca puttana, fratello contro fratello. Per cosa, diavolo? Lo dice Akhmatov. Se vai a fare la guerra, fai la guerra. Qui l'esercito non esiste. Bestemmia pure, perché a proposito di indemoniati, il presunto ex senatore. Ma è soprattutto sul futuro, che pessimista Putin, non si lurerà nessuno. Il comandante in capo è il responsabile di tutto. Se la perde saremo fottuti, dice Akhmatov, che risponde sconfortato. Non so come si possa dicere. L'audio, intanto, ne ha scatenati di nuovi. Come reagiranno le autorità russe alla presunta intercettazione? Quello che è certo, secondo la politologa Tatiana, ecco, chi è Tatiana? Vi starete chiedendo voi. Tatiana, come si chiama? Maina Gioia. Ah, no, Stanovaia. E che molti uomini d'affari, dice, hanno imparato la lezione. Hanno imparato tre cose. Non siamo gli unici a pensarla così. Siamo in tanti. Al telefono niente più commenti sulla politica. Non c'è nessun posto dove nascondersi. Ci sono imboscate ovunque. Bisogna stare in silenzio. Vabbè, dai, insomma, non è male sto pezzo di Rosalba. Dai, la rocca puttana Rosalba, comunque, insomma, cresce, migliora sempre. Ha fantasia, ha genio, ha intuito. Dai, sta ragazza migliora. Cambiamo argomento e parliamo un po' di Europa. Ecco, voi sapete che questa Unione Europea è notoriamente un mostro. Ha fatto danni a tutti i paesi che hanno aderito in maniera, come dire, un po' temeraria a questa organizzazione che non si capisce che è. Se è una federazione, una confederazione, un gruppo di matti, dei delinquenti colpisti, mascherati da rappresentanti del popolo. Insomma, è un accrocchio che fa schifo. E per molto tempo non hanno fatto altro questi delinquenti che massacrare i paesi della cintura mediterranea, in particolare la Grecia, l'Italia, l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo. Adesso si sono un po' calmati perché le priorità sono altre, però quando possono, l'istinto usuraio e miserabile di questi signori viene fuori sempre. Dice, ultimatum dell'Unione Europea sul PNRR, ci dice oggi Repubblica, pagina 7, dice, un altro mese di stop alla rata. Claudio Tito è l'autore di questo articolo. Dice, ancora bloccati 19 miliardi della tranche di fine 2022. Dice, Bruxelles ci contesta inadempienze su tre obiettivi, pesano i no su Balneari e MES. Ecco, voi sapete che il meccanismo chiamato MES è di fatto una trappola, una trappola gravissima che rischia di mettere il paese in condizioni di totale mancanza di sovranità in prospettiva e il MES è caro soltanto ai banchieri, agli usurai, ai Mario Motti, ai Mario Draghi, insomma, a quelli che vogliono svuotare quel po' di dignità, di sovranità, di libertà che i governi nazionali mantengono e intorno a questo meccanismo europeo di stabilità è nata una finta contesa che riguarda soprattutto in Italia perché questo MES non lo vuole nessuno però chissà per quale motivo ce lo vogliono fare ingoiare solo a noi. Bruxelles dice una vera e propria bacchettate nello stesso tempo un ultimatum o cambiate sul PNRR ma anche sulla vicenda delle concessioni balneari oppure salta la tranche di 19 miliardi da stianziare per gli obiettivi del secondo semestre 2022. Ecco, sono sempre dei toni ricattatori questi europei questi commissari che non ve li ricordate tra i più squallidi ci sono quelli lì Dombrovskis quello lì Lettone quell'altro ve lo ricordate quell'altro francese Moscovisi quel tedesco Ottinger prima ancora c'era un altro finlandese da strapazzo pessimo Olli Rehn un olandese che con un nome impronunciabile diceva che gli italiani vogliono spendere tutti i soldi in alcol e don insomma dei personaggi squallidissimi da circo che però non avendo noi una classe dirigente che si fa rispettare fino in fondo si prendono di volta in volta la briga di ricattarci e insolentirci ora ci ricattano dicendo che se non facciamo come dicono loro i 19 miliardi di distanziamento non arrivano più dice i toni restano cortesi dice il dialogo non viene mai interrotto ma tra il governo italiano e la commissione i rapporti sul next generation sono oramai ai ferri corti dice dopo un anno e mezzo l'Italia rischia di fallire i suoi traguardi e di mettere il next generation EU su un binario morto dice ieri era arrivata a Roma una lettera della task force che si occupa a Bruxelles del piano italiano nella quale si metteva nero su bianco che l'esame non si poteva considerare superato ma vi rendete conto anche che tipo di terminologia che usano l'esame come se i governanti di un paese formalmente libero come l'Italia siano degli scolaretti e gli europei la commissione europea è formata da grandi professori che ci devono dare la potente di legittimità se uno andasse lì invece di discutere il PNRR ma facendo una pernaccio cioè appena parla von der Leyen invece di rispondere al medito uno si mette una mano così e gli fa il PRRR senza la N magari prima o poi imparano questi elementi e poi la von der Leyen anziché venire a dare lezioni al nostro paese perché non guarda in casa sua perché non chiede a Scholz quello che combina perché non pretende dal governo del suo paese un minimo di rispetto della verità anche in relazione al fatto che hanno subito attentati terroristici gravissimi da parte degli Stati Uniti e fanno finta di non sapere niente cioè questi vigliacchi dei tedeschi fanno la voce grossa con i greci con gli italiani cercano di sfogare le frustrazioni contro i paesi che reputano più deboli ma poi se gli americani gli fanno saltare il gasdotto gli mettono la bomba là dentro gli dicono che devono stare zitti li prendono a caccia li umiliano li trattano come servi idioti e miserabili fanno finta di niente e stanno zitti proprio davvero insomma squallidissimi dei 55 obiettivi fissati ce ne sono tre in particolare che presentano le maggiori difficoltà dice le concessioni portuali le reti di teleriscaldamento i piani urbani integrati in relazione al bosco dello sport ecco al bar dello sport dovreste andare con Gerry Galà e allo stadio Artemio Franchi il governo Meloni si è difeso con un intenso scambio di lettere ricordando che questi provvedimenti erano stati approvati dall'esecutivo Draghi dice il centrodestra per non perdere 19 miliardi di questa tranche punta l'indice contro l'ex premier dice resta il fatto che l'Italia è l'unica insieme all'Estonia ad avere problemi così seri sul raggiungimento delle tappe fissate sullo sfondo oltre all'inefficienza della squadra miloniana dice c'è anche dell'altro la linea conflittuale eseguita da Palazzo Chigi sulle concessioni per i balneari anche sul MES che di fatto ha reso più severo il giudizio della Commissione quindi stanno dicendo che è una vendetta questa è la solita vendetta di questi elementi della Commissione europea semplicemente perché l'Italia non vuole legarsi completamente mano e piedi ad un circuito che rischia di farci annegare definitivamente ecco noi il MES è una cosa che va assolutamente respinta con forza non lo vuole nessuno come al solito stanno puntando solo noi il governo fino ad ora sembra resistere vedremo per quanto tempo in ogni caso sono usciti fuori dal dibattito pubblico e politico la rottura dell'euro la fine di questo mostro di Europa argomenti che erano caldissimi fino a pochi anni fa adesso purtroppo abbiamo la necessità di rompere questa moneta unica non è più presente nel dibattito pubblico e questo è un problema magari però sarà il ribaltamento degli equilibri geopolitici a cascata a fare crollare questo mostro d'Europa magari riusciranno gli eventi oggettivi e obiettivi a fare quello che forze politiche non organizzate non sono riusciti a fare negli ultimi anni perché rompere l'Unione Europea rompere l'euro è una necessità storica oltre che una precondizione indispensabile per tornare a vivere da persone libere ecco dice così bello il recovery fund perché per la prima volta è stato finanziato con debito comune un precedente che è una svolta epocale per l'Unione Europea prima di bocciare l'Italia la Commissione intende percorrere tutte le strade possibili e ci trattano come quei maesi dice bravo ma non si applica non lo vorremmo bocciare però se studia un po' di più se fa i compiti a casa se tiene una condotta migliore l'Italia la promuoviamo ecco inserire un ulteriore segno di fragilità significherebbe innescare la speculazione anche sul nostro paese in particolare sul suo debito pubblico ecco ritirano dall'armadio quei vecchi fantasmi invecchiati quelli che funzionavano dieci anni fa al tempo di Monti vi ricordate quando dicevano lo spread ucciderà il paese il debito pubblico grava sulle spalle delle nuove generazioni adesso il debito pubblico italiano è più alto di quello dieci anni fa ma non ne parla più nessuno proprio perché vi è un utilizzo politico dei numeri non si limitano a fotografare una realtà obiettiva e presentano un problema così per come lo riscontrano cioè loro cavalcano delle suggestioni soltanto per ottenere dei risultati che diciamo prescindono dall'effettiva gravità della situazione semplicemente quando ritengono che è il momento di schiavizzare le fasce deboli allora creano dal nulla dei problemi cavalcati immediaticamente che finiscono poi con l'impressionare delle persone che in buona fede che non hanno gli anticorpi per capire la malizia di questi personaggi ecco questa prospettiva non affascina nessuna viene vista come un vero pericolo che l'Europa deve scongiurare cioè una ripresa già fragile potrebbe diventare inesistente vabbè lasciamo la repubblica dei transumani andiamo a leggere il giornale più venduto di tutti voglio dire il Corriere della Sera diretto da Lachi Luciano Fontana aprono sugli sbarchi dice quadruplicati gli sbarchi record rispetto all'inizio del 2022 quote per lavoratori stranieri esaurite in un'ora dice Salvini è un attacco i centri di accoglienza al collasso Gentiloni in Tunisia ecco ci potrebbe pure restare Gentiloni magari aiuta quel paese a migliorare Gentiloni meglio conosciuto come Ermo Viola è chiaro che quando c'è un governo di centrodestra improvvisamente gli sbarchi aumentano il problema si materializza mentre quando governano le sinistre cosiddette fucse e progressiste chissà come mai il problema dell'immigrazione selvaggia o non viene fomentato oppure non viene rilanciato mediaticamente in ogni caso sembra non esistere è chiaro che questo è un grimaldello che viene usato da sistemi molto sottili per tenere sotto pressione dei governi che evidentemente non devono capire il messaggio devono recepire chi è che parla andiamo avanti perché Lorenzo Cremonesi che è uno di questi ecco non è proprio Rosalba dai putiniani allupati è una donna che ha fantasia anche coraggio perché non è che le pensa pensa a una fesseria lei poi la scrive e la fa pubblicare quindi è una donna anche che ha coraggio Cremonesi invece è più insidioso perché fa finta di essere neutro e invece piazza continuamente le notizie che vengono fuori dalla più becera propaganda ucraina e oggi ci dice Cremonesi da Kiev dice che Mosca minaccia gli USA dice a Kiev arrivano i leopard tedeschi dice Patrushev possiamo distruggere qualunque nemico spunta una conversazione tra oligarchi Putin Satana ecco quindi anche il Corriere della Sera si lascia influenzare dalla notizia di Putin in versione Satanasso l'ombra del disastro nucleare dice ha accompagnato l'incontro a Zaporizia tra Zaleschi e il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che si chiama Rafael Grossi più di una volta abbiamo sfiorato il disastro se dovesse continuare in questo modo prima o poi dice la nostra fortuna terminerà ha voluto ribadire Grossi che nei prossimi giorni tornerà alla centrale controllata dall'esercito russo sin dal marzo del 2022 ieri il segretario del consiglio di sicurezza Patrushev ha detto che la Russia possiede armi avanzate uniche in grado di distruggere qualsiasi nemico compresi gli Stati Uniti in caso di minaccia alla sua esistenza ecco ma sul fronte russo interno emergerebbero anche nuove crepe avete capito perché oggi esce il risultato esce la notizia di Putin satana di questa stupidaggine totale colossale di una presunta intertezzazione tra due semi sconosciuti che parlano del più e del meno che poi questa finisce sui giornali ucraini a cascata questa serve questa è una manovra di cosiddetto inquinamento informativo cioè serve per distogliere l'attenzione dalle cose serie cioè dal fatto che i russi stanno dicendo beh si è messi alle strette noi siamo in grado di colpire con armi nucleari anche gli Stati Uniti d'America questa è una notizia serie che abbiamo dibattuto ieri nel nostro talk show allora loro cosa fanno pur di non parlare della cosa serie la cosa serie la buttano lì Repubblica invece l'ha completamente oscurata non ne ha parlato proprio e rilanciano e fomentano una non notizia che è quella di Putin satana ieri alcuni medi ucraini hanno diffuso una presunta quindi non sanno mai cos'è autentica conversazione tra questi due e dicono che Putin è satana in questa fase va rilevato ecco però vedete come è un po' più sobrio mentre Rosalba si è eccitata tutta appena ha visto sta fesseria si è andata a leggere tutte le ricostruzioni è andata a contare quante volte quello dice il Lino Banfi dell'Azerbaijan dice porca puttena nella sua lingua e quindi è rimasta proprio eccitatissima da sta cosa Cremonesi che è un po' più navigato insomma è un po' più scaltro la butta lì sta fesseria però poi va oltre parla d'altro cioè è un pochino più mentre Rosalba insomma è una bambinona no lui è un pochino più furbo in questa fase dice va rilevato il silenzio cinese a soli pochi giorni dalla visita di Xi a Mosca Xi non sta insistendo sul suo ruolo di mediatore non è che sta insistendo lui ha fatto una proposta se quello ha detto che non è ogni giorno l'ha fatta una proposta chi la vuole la approfondisce nel suo piano di pace in 12 punti preferisce concentrarsi sui rapporti economici con la Russia sino ad ora non c'è neppure stata la sua telefonata con Zelensky il leader cinese aveva però chiesto a Putin di evitare le tensioni in materia nucleare ma non sembra sia stato ascoltato cioè anziché porre l'accento sul fatto che Xi Jinping è stato a Mosca è stato tre giorni con Putin si sono lasciati con grande amicizia si sono detti che lavoreranno insieme per cambiare l'ordine geopolitico venuto fuori dalla caduta del muro di Berlino Xi Jinping a Zelensky non l'ha calcolato proprio non è andato non gli ha fatto manco una telefonata non ha fatto manco finta di chiamarlo ha chiuso il telefono come Pantozzi col megadirettore però secondo il Corriere della Sera Xi Jinping non ce l'avrebbe con Putin che ha abbracciato con il quale ha fatto un ragionamento a beneficio di telecamera no ce l'avrebbe lo stesso con Putin e Satana perché vede crescere e non è contento il cinese le tensioni nucleari il tempo preme la visita di Zelensky nel settore di Zaporizia torna a mettere l'accento sull'eventualità che proprio qui possa scatenarsi la famosa offensiva di primavera il senso strategico è ovvio lo Stato Maggiore di Chievo potrebbe mirare a catturare Melitopol liberare Kherson liberare l'intero est del Dnipro poi scendere verso l'imbocco della Crimea e poi fino a Mariupol ma una volta che siete lì io direi ma perché non andate pure verso Mosca vi fate in giro a San Pietroburgo poi andate alla Transiberiana e andate fino a Vladivostok e poi ritornate tranquillamente serenamente a cavallo da vincitori ma per una volta Zalesky è stato cauto ieri ha invitato ieri ha invitato le popolazioni nelle grandi metropole del centro-ovest a non dimenticarsi della guerra a suo dire soltanto la mobilitazione dell'intero paese può garantire di avere la meglio i russi diminuiscono la pressione su Bakhmut però intensificano gli attacchi contro Advidpka una quindicina di chilometri da Donetsk nella cittadina di Slovias le bombe russe hanno colpito il centro uccidendo i civili in serata le sirene sono tornate a suonare su Chieve chissà come mai questi giornalisti del Corriere della Sera di Repubblica della Stampa non danno mai notizia delle bombe ucraine nel centro di Donetsk che hanno fatto un numero imprecisato di morti civili queste non le hanno mai denunciate non le hanno mai citate quei morti non le hanno mai pianti andiamo avanti ecco ancora con questa storiaccia dell'auto green auto più green patto o è Berlino dice Italia bloccata sui biocarburanti oggi il via libera agli e-fuel e ai motori elettrici dal 2035 respinta la richiesta di un rinvio questi sono ossessionati questi qui dell'Unione Europea sono completamente matti sono chiaramente sovragestiti dai padroni di Davos che sono fissati con sta follia della quarta rivoluzione industriale che vogliono guidare per farci entrare dentro una nuova forma di feudalesimo si sono inventati anche qui inventano in maniera strumentale un presunto problema incredibile prima del debito pubblico adesso è diventato il riscaldamento climatico il riscaldamento globale il cambiamento climatico e sulla base di questo del presupposto fasullo che è l'attività dell'uomo l'aumento di CO2 provoca il riscaldamento globale vogliono dare il colpo di grazia diciamo ai vecchi ceti medi alle vecchie classi lavoratrici per inaugurare la cosiddetta svolta green ecco che già nel nome ricorda il famigerato green pass ci dice Francesca Basso che il consiglio energia oggi a oggi all'ordine del giorno l'adozione definitiva del regolamento dell'unione europea che stabilisce che dal 2035 le auto i furgoni leggeri dovranno essere emissioni zero diciamo prendo la strada alla mobilità completamente elettrica fatta eccezione per le vetture alimentate con i carburanti sintetici come chiesto e ottenuto dalla Germania in una declarazione della commissione dell'unione europea che sarà messo a verbali i biocarburanti non sono stati presi in considerazione questa era la richiesta dell'Italia è una cosa assolutamente impossibile cioè immaginare che dal 2035 andranno in giro soltanto le auto elettriche è una cosa davvero senza o vogliono far tornare la gente a cavallo a piedi o semplicemente è un blef che prima o poi cadrà dice ieri gli ambasciatori dei 27 con il no della Polonia dell'astenzione di Bulgaria e Romania hanno approvato che il via libera al regolamento sulle auto green fosse messo in agenda oggi non accogliendo le obiezioni dell'Italia che sostiene ci siano ragioni sostanziali e formali per posticipare la decisione ecco questo per dire che adesso col governo Meloni in Europa contiamo molto di più come ci diciamo adesso sì in Europa batteremo i pugni secondo la dichiarazione della commissione che sarà messa a verbale oggi l'esecutivo comunitario si impegna per una regolamentazione del clima tecnologicamente neutrale guardate che linguaggio astruso che utilizzano per non fare capire niente alla gente in particolare per quanto riguarda la regolamentazione degli standard di emissione di CO2 per le auto e i veicoli commerciali leggeri nella dichiarazione che andrà a verbale l'esenzione è prevista esclusivamente per gli RFNBO è un acronimo che sta per carburanti rinnovabili di origine non biologica ecco questa è una richiesta che ha fatto la Germania e che naturalmente è stata accettata la richiesta dei biocarburanti che ha fatto l'Italia invece è stata respinta all'emittente questo come ulteriore dimostrazione che noi veniamo trattati sempre come degli scemi la commissione si impegna a presentare un regolamento va bene eccetera eccetera sta di fatto che questa operazione è un'operazione sbagliata è un'operazione impossibile si somma all'attacco alle case con la questione del contingentamento energetico che punta allo stesso modo a cambiare la nostra economia il nostro modo di vivere a colpire il modello di vita la dignità sociale le certezze di milioni di persone che devono essere scaraventate dentro un nuovo feudalesimo digitale fintamente ecologico e però per addivenire ad un risultato di questa natura cioè per cambiare i rapporti di forza per ridipingere la nostra società in senso maggiormente oligarchico per svuotare le vecchie certezze per rompere l'economia reale e impedire a un cittadino di sentirsi libero proprio perché liberato dal suo lavoro dalla capacità di lavorare e di guadagnare senza dover ottenere e ricevere niente da nessuno per distruggere questo modello si sono inventati il disastro climatico sotto i nostri occhi è l'ennesima bufala è l'ennesima fesseria è l'ennesima istituzione batteria provocata ad arte da questi maghi neri che utilizzano i giornali per creare paure indotte che servono i loro padroni hanno fatto così col debito pubblico hanno fatto così con lo spread hanno fatto così con l'isis hanno fatto così con il covid fanno sempre così e adesso utilizzano l'emergenza climatica il riscaldamento global non dovete credere a questi miserabili perché mentono sapendo di mentire e purtroppo trovano gente che ancora non riconosce la malizia di questi perfidi disgraziati qua ci vorrebbe Rosalba porca puttana ci stava qui andiamo a leggere la verità ecco la verità dice che c'è una rete segreta lo scandalo che scuote i socialisti europei tra Erdogan e il Qatargate ecco non si è sparito tutta la vicenda della corruzione li ve lo ricordate del Qatar poi a un certo punto è sparito tutto sembrava che dovesse crollare tutto hanno messo naturalmente tutto sotto il tappeto nelle carte di un'indagine bolognese le prove dei rapporti diretti tra il figlio del sultano e il turco Kamuz l'uomo che faceva pagamenti alla società di Panseri e di Giorgi Bilal ha vissuto in Italia dal 2015 al 2016 l'intreccio di relazioni con politici giornalisti e industriali andiamo alle pagine interne perché c'è Alessandro Rico che ci racconta lo stato dell'altro rispetto alla compravendita di questi inutili sierigenici chiamati erroneamente vaccini l'Unione Europea Lumaga rivede i contratti per i vaccini la Commissione si decide di negoziare le forniture ma i tempi si pronunciano lunghi sui contenuti rimane la totale opacità intanto Pfizer minaccia il Canada dice se i vostri parlamentari leggono le carte con gli accordi segreti nessuno farà più affari con voi ecco l'altra sera da Brindisi c'era Bacco che diceva no c'è chi accusa chi mette in discussione la bontà di questi vaccini per chissà quali inconfessabili desideri di arricchimento e non riescono a dire in queste trasmissioni che gli unici che utilizzano la leva del denaro per tenere sotto pressione o per condizionare finti professionisti medici associazioni università sono proprio i padroni di queste cause farmaceutiche che oliano tutto sono forme di corruzione li chiamano finanziamento ma di fatto si chiama corruzione fate con calma dice Rico intanto le dosi si accumulano scatono e noi paghiamo dice finalmente la commissione si è decisa a rinegoziare i contratti per i vaccini covid con Pfizer e le altre ditte produttrici la trattativa informano da Bruxelles in corso c'è il massimo riservo manca a dirlo sui contenuti del dialogo con le case farmaceutiche la solita trasparenza targata Unione Europea dice il via libera dell'unione è arrivata poche settimane fa ma è da dicembre che il commissario per la salute che si chiama Stella Chiriachides ecco povera Stella riceve le rimostranze dei paesi secondo i quali sarebbe urgente interrompere o rimodulare le consegne delle firme ma se non se ne fa più nessuno se fortunatamente l'inganno è caduto se questo siero che non immunizza non serve a niente ha degli effetti avversi anche gravi non serve più a nulla perché dobbiamo comprare continuare a comprare cose che non servono a niente chi è che comprerebbe non so come vendere ghiaccioli al Polo Nord chi è che se li compra ad aprire le danze era stato proprio il nostro ministro Schillaci auspicando che la responsabilità di lazionarsi con Pfizer tornasse in capo alle capitali dice ultimamente a dare manforte a Varsavia sono state Bulgaria Lituania e Ungheria in una lettera alla commissione i rispettivi ministri della salute si sono scagliati contro l'ipotesi di intesa come il colosso dei medicinali in virtù della quale l'azienda di Burla si sarebbe impegnata a tagliare del 40% le consegne purché le fossero versati i compensi anche per le dosi non fabbricate cioè quindi a Burla Pfizer paghiamo sia i vaccini che ci consegna sia quelli che ci doveva consegnare ma non neanche fabbricato dice pure la Germania tramite il titolare del di Castero che si chiama Lauterbach ha fatto sapere che i vaccini ordinati per il 2023 e il 2024 non servono più l'Austria ha spinto la commissione per accrescere il pressing sui prodotti praticamente avevano comprato vaccini fino al 3.000 ecco chissà come mai avevano chiuso degli accordi così vantaggiosi per Pfizer a danno del contribuente europeo come mai questa commissione europea che è sempre così austera quando c'è da dare due lire a pensionati a lavoratori al minimo quando c'è da dare respiro alla sofferenza delle classi sociali meno abbienti lì contano pure la virgola adesso invece che c'è da arricchire gli amici vostri siete diventati improvvisamente di manica larga ecco vergognati perché fate schifo come sempre la Spagna ha dovuto distruggere 6 milioni di dosi dice la Kiriachides sottolinea che gli antidoti hanno salvato un milione di vite grazie ecco questa gliela avrà scritta a brindisi sta nota stampa insiste sul fatto che continuano a essere la nostra migliore assicurazione in grado di ulteriori variabili è arrivata una nuova variabile poi ve ne do notizia l'aspettavamo da tempo si chiama Arturo Arturo è il nome il cognome ancora non lo sappiamo ecco comunque questa è la situazione poi interessante questa storia del Canada dice che in Canada c'è una commissione parlamentare sui conti pubblici che ha preteso che i deputati consultassero i contratti seglati con Big Pharma i dirigenti di Pfizer non l'hanno presa bene hanno minacciato una nazione nordamericana avvisandola che questa mossa avrebbe provocato un crollo della sua reputazione cioè questi vogliono fare tutto il buio e se qualcuno pretende di portare le carte alla luce si lamentano Sampson ecco forse o Jay Simpson Najah Sampson ecco sarà parente di Homer Simpson presidente della sezione canadese del Colosso ha sostenuto che la rivelazione del nostro accordo riservato integrerebbe un uso dell'autorità al di fuori dell'ordinario e ciò trasmetterebbe un messaggio forte ai partner in affari e le compagnie che cercano di investire qui invocare chiarezza dicere che è un abuso se date fastidio a Pfizer nessuno farà più affari con voi ecco però i parlamentari canadesi fortunatamente hanno tenuto duro perché ricordano che i cittadini hanno speso 5 miliardi di dollari hanno il diritto di sapere che uso è stato fatto di quei soldi che non erano di Pfizer neanche del presidente del Canada ma erano dei cittadini e del contribuente dice le grandi industrie sono in ansia alla fine della pandemia che l'OMS è prossima a decretare significa 60 miliardi di fatturati in meno dice prima o poi doveva succedere ora è tempo che i remiti dell'RNA messaggero abbassino un pochino la cresta ecco ma non crediamo che l'abbasseranno questi troveranno il modo di creare una nuova emergenza come ha anticipato Bill Gates e di rifilarci nuove patacche c'è una buona analisi rispetto alla situazione sul fronte di guerra sulla verità di Pietro Dubolino presidente di sezione al riposo della corte di castazione dice con Kiev che finché serve cioè fino a quando i dirigenti occidentali continuano a non porre limiti nel sostegno a Zelensky dice bisogna aiutarlo dicono per tutto il tempo necessario ma nessuno sa indicare l'obiettivo che si vuole raggiungere e se agli USA tale vaghezza fa comodo dice per gli europei è una sciagura nel suo articolo il magistrato in pensione sottolinea come mentre per gli americani questa guerra sia tutto sommato vantaggioso perché traggono vantaggi politici economici della persecuzione della guerra questo non si può dire con riferimento alle nazioni europee gli europei sanno che il protarsi della guerra non potrà fare altro che procurare danni nei quali la popolazione già devono sopportare il peso e questo peso continueranno a sopportarlo queste popolazioni avrebbero il sacrosanto diritto di sapere a quale scopo preciso e fino a quale limiti debbono essere costretti ad accettare sacrifici che non rispondono ad un loro interesse ma a quello di altri paesi ma di tale diritto i governanti europei a cominciare dall'ineffabile baronessa von der Leyen presidente della commissione europea dimostrano di non tenere il benché minimo conto comportandosi come si comportavano una volta i sovrani assoluti per i quali il decidere fra la pace e la guerra era questione di loro esclusiva competenza con la differenza che quelli almeno credevano facevano mostra di credere in un dio al quale dovevano rendere conto delle loro scelte per cui questa gli occhi delle popolazioni dovevano presentare se non altro l'apparenza di una qualche oggettiva giustificabilità gli attuali governanti europei invece sembrano agire nella convinzione che delle loro scelte non debbano rendere conto a nessuno se non al presidente degli Stati Uniti d'America rimane quindi solo la flebile speranza che qualcuno o qualcosa li costringe una buona volta a cambiare idea ecco una di queste buone cose che li costringe a cambiare percorso è il referendum voi sapete che il comitato ripudia la guerra insieme al comitato Generazioni Future di Mattei è stato creato un unico grande meccanismo per cercare di raccogliere le firme necessarie per impedire un referendum e impedire così la prosecuzione di questo folle invio di armi in Ucraina a breve partirà questa in tutta Italia questa grandissima raccolta firme noi di Visione TV faremo il massimo per aiutare questa lodevole iniziativa intanto vi invito l'1 aprile alle ore 15 a Piazza Santa Apostoli grande comizio di piazza per denunciare le manovre dell'OMS e la presenza di alcuni strani biolaboratori anche nel territorio italiano va bene vi volevo fare vedere un'ultima cosa prima di salutarvi eccola qui ecco qui vediamo questa notizia vedete c'è una nuova variante ce lo dice Repubblica che non teme il ridicolo il Covid non è finito è arrivata la variante Arturo che travolge l'India quindi attenzione se vedete Arturo preoccupatevi perché la nuova forma è virale nata dalla ricombinazione di due versioni precedenti di Omicron ha causato un aumento dei contagi quindi dalla ricombinazione si sono accoppiate due vecchie versioni ed è nata fuori la nuova è nato un bambino è maschio e l'hanno chiamata Arturo grazie cari amici per averci seguito anche oggi in questo orario insomma per noi stravagante torniamo domani alle 11 con il controcanto se volete aiutarci sapete come potete farlo donando i numeri che la regia appena mi ha andato in sovraimpressione grazie ancora a tutti voi una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti